Noi li chiamiamo gli artigiani del gusto, sono degli agricoltori che producono gli asparagi. Questo è il momento degli asparagi, come voi sapete è un momento molto faticoso, bisogna alzarsi molto presto alla mattina, bisogna pulirli, portarli al mercato. Ci sono tantissime piccole aziende, noi ne citiamo due. Una è nella zona di Tavagnaco, una delle poche rimaste, ce ne sono nove i produttori che sono rimasti, è una signora che produce asparagi a Tavagnaco ma ha trovato la maniera anche per prolungare la vita dell'asparago mettendoli sott'olio e poi produce anche dei sott'olio con delle melanzane ripiene, con dei giochi di sapori con gli asparagi. Ed è veramente un'azienda, adesso vi cito il nome, è il Campo Incantato, lei si chiama Francesca Ruffini e andare oltre gli asparagi è stata una bellissima idea. Un'altra signora, anzi una ragazza molto giovane, adesso ci spostiamo verso Gradiscuta di Varmo, esattamente a Belgrado di Varmo, che il grande Sergio Maldini definì quelle terre, le terre di mezzo, dove hanno gli asparagi accanto al fiume Varmo e accanto al fiume Tagliamento, sulle golene del fiume Tagliamento dove le esondazioni permettono terreni perfetti. Serena Governo si chiama, giovane ragazza che anche lei fa gli asparagi con i genitori, d'inverno produce la Dekulpok e quindi lei fa gli asparagi, si alza la mattina, poi si cambia, si fa la doccia, si cambia e va al mercato a venderseli. Una ragazza di 25-27 anni, carica di energia, ha sviluppato anche lei dei prodotti nel vasetto per prolungare la vita dell'asparago e quindi perché possiamo assaggiarlo o sott'olio o anche sott'aceto. Grazie.